Il nostro paese è un paese di più di abitanti di appena più di Cacar Caniva, che contano meno di 10 abitanti a principi dell'anno 2000. Per capire come va, ci sono un paese di appena più di più di un paese, ma ci sono i paesi che si muovono da fare un paese. Per capire come va, ci sono i paesi che si muovono da fare un paese di appena più di più di più di un paese. Ci sono 5 abitanti in tutto il paese, e dopo abbiamo avuto niente in più, e speriamo di avere ancora un po' di più, che vengono dietro, che vengono nei continenti, ma niente di un locale, niente di Carpinedo, che hanno una tascia. Perché sapete che è una niente tascia per i paesi, una niente passione di quello che fa. E come vi dite, appunto, l'abbene di Carpinedo, ben a sicuro, ma di noi di sapere di Rizza, si sa che di oggi non c'è la volontà di fare qualcosa di stabile. di Rizza, più o meno, tutti i diritti hanno una responsabilità, quindi ognuno dirà un po' a qual è il suo mulino, ma io pensavo di nuovo, che la castagnia di More, la castagnia era una delle più preparate d'Europa, un manco di divancia d'Europa, e c'era, non so più quanto, dentro del metro quadrato, e che è diventato un patrimonio, questo patrimonio ci ha salvato. e noi cerchiamo di ammigliore tutte le nostre estete, con ricciate, con strada, con un pochissimo di linee e tutto, quindi a un momento è mancato a vivere, quindi questa è già una farona, che diante dell'estero, che vogliono lavorare per un anno più facile, quindi, questo è importante. E quindi piano piano penso che l'avenir non riconoscerà così negativo, come certi vuoi. In Carpinedo, Marcel Ferrari non è manca penazolo, a proa di Moasi, con un associo i baizzani, Marie-Dominique Guiponi ha participato a un'isano per una esposizione di Nantallomi Ubaesi, Mortina Guerra di Uguattordici, e si può dire, chi li è ha adunito Ubaesi. Io penso che abbiamo dovuto lavorare per circa 6 mesi, a recherchare tutti i documenti, abbiamo interrogato i villaggiatori, tutti i fatti in questi archivi per trovare le vielle foto, delle lettere di Poilu che gli envoiono a loro famiglie resta nel village. E per il centenaire dell'armistice, noi abbiamo organizato una esposizione, abbiamo fatto l'inaugurazione, e abbiamo trovato una buona idea per honorare i nostri morti, per non finire in l'oubli. La soggio ha di non raccolto i soldi da rifaiesa, dedicata all'immaculata Concezioni, un patrimonio ricco, che si non dà ai mali, e che è oggi salvato, ma c'è un altro patrimonio a Prutedia, qui d'un naturale, con il gastanetto e la gumuna, e per cui un arnazino è stato creato. Allora, è creato questa soggio fondaria bastorale, a chi di oa, per una gomma di carpinetto, c'è l'interesse di salvare, di proteggere un patrimonio naturale, dino? Questa soggio consiste a legare la castagna, a cacciare tutto il secco, ma dopo, sicuramente, a fare la vista, perché è finita, l'affare di esumire, si è terminata. e di gioia i luoghi, per rapporto ai geniali, e ai borsi che c'è, in libertà. Si può dire che un gastanetto di carpinetto è appena sbandonato, il scopo è di farlo un pattorno, di rimettere appena su un gastanetto un valore, di puliscerlo? Di cercare di fare qualcosa per i biali, per i biali, perché non c'è mica scordarsi che i gastani sono portanti, hanno quantunque da da mangiare, ai nostri antichi, in tempo di vera, dunque, e poi pure la faccia, i giovani agricoltori che sono interessati, dunque, ci ha cercato di fare il più che si può qua. In giro il paese, 220 etari sono concernati dall'azione di l'assogio Vondario, a stasso l'azione di giovani da ripigliare l'attività gastanina aiutare a di non capire netto in uso del scopo di rifiattare il bale. Grazie. Grazie. Grazie.